5 vai sinistra 2, gira chiude, 50 al cartello ritarda allo specchio, destra 3, gira buona, ripeto, ritarda allo specchio, destra 3, gira buona, 50 destra 1, più 20 ritarda molto, sinistra 3, lunga lunga, 20 sinistra 1, più, perfetto, 1, più per accenno, destro lungo, al muro diventa 3, più gira lunga 30, aspetta, lo vai, perfetto muretto sinistra 3, chiude 2, a rosso 30 ritarda a destra 3, gira, chiude, a rosso, lunga 20 ritarda a sinistra 3, gira molto, 20 ritarda a destra 3, più, 50 al cartello sinistra 3, più, 30 al palo sinistra 3, più, 2, tempi, 40 destra 4, con dosso, stai centro, 30 al palo sinistra 4, tieni, e subito destra 2, più, laggiù, 2, più, ora 20 sinistra 3, più, 50 dosso, stai destra 30, ritarda molto sinistra 5, 30 accenno, destro, 40 dosso, stai sinistra e destra 3, buona e subito anticipa a sinistra 3, più in accenno sinistro, per destra 4, 30 dosso, stai sinistra, per destra 4 per ritarda, sinistra 3, più, lunga, lunga apre in accenno destro e subito sinistra 3, tieni per destra 3, chiude 2, ripeto, 3, chiude 2 20 alla casa, sinistra 3, buona gira poco, 50 a re in ritarda, destra 2, più, più, 30 attenzione, ritarda molto sinistra 2, gira, 30 destra 2, più, tieni per ritarda, sinistra 3 gira, lunga vai, 50 destra 2, più, più lunga ripeto 2, più, più, lunga sinistra 3, buona 50 destra 3, gira vai, 20 sinistra 3, buona il accenno destro taglia 40 sinistri dosso, stai centro 50 al paletto, ritarda sinistra 3, vai 30 accenno destro sul dosso e subito accenno sinistro al cartello chiude 4 al cartello lì per sinistra 3, più in destra 3, meno gira per sinistra 3, più 30 destra 4, lascia 20 destra 3, più lunga lunga, tieni per ritarda sinistra 2, scende 40 ripeto 2, scende 40 accenno destro e sinistra 5, 30 destra 2 ripeto destra 2 per sinistra 2, più, più per sinistra 3, chiude 2, più gira in destra 3 ripeto in destra 3 in accenno sinistro 20 accenno sinistro tieni e subito destra 2 vai 40 stai sinistra accenno sinistro tieni e subito al rosso destra 2 tieni e subito sinistra 1 più per accenno destro in sinistra 3, più 20 accenno sinistro 30 contosso stai sinistra al secondo abiri destra 2 tieni e subito sinistra 2 gira 30 ritarda destra 3 vai in destra 4 più lunga 50 stai destri albiri sinistra 2 più più in accenno destro lascia 20 ritarda molto destra 3 più per anticipa sinistra 3 più gira poco 40 anticipa tieni sinistra 3 più uno scalare semmai frena un po' per destra 4 meno 200 fine no 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 no